In un anno dal suo insediamento, giugno 2016, Riccardo Spendolini, coordinatore d'ambito per la TS6, di cui il Comune di Fano è capofila, con i suoi tre collaboratori messi a disposizione dal Comune ed il prezioso contributo degli altri operatori, ha affrontato un lavoro delicato, impegnativo e certosino per ricucire i percorsi e le situazioni sospese che derivavano dalla precedente amministrazione. Situazioni critiche da sanare, con percorsi da riattivare ed importanti processi rallentati, se non addirittura interrotti, con ricadute sul sociale e sulle fasce deboli disastrose. Nella nuova sede unificata dei servizi sociali a Sant'Orso di Fano, questa mattina sono stati illustrati, assieme all'assessore Marina Barniesi e dalla presenza dei sindaci dell'ambito, gli incoraggianti risultati di questo primo semestre del 2017, che porta la somma di cinque punti crociali nell'attività d'ambito. Lotta al disagio e alla povertà, con il sostegno dell'inclusione attiva sia per le famiglie disagiate, elaborazione di tre progetti europei sempre mirati al recupero di situazioni disagiate e di integrazione sociale, convenzione intercomunale per la gestione associata dei servizi tra i comuni d'ambito per una razionalizzazione dei costi, integrazione socio-sanitaria per i minori con percorsi riabilitativi e poi il progetto salute mentale e le attività di strada dell'unità per il monitoraggio tra i giovani con condotte a rischio. E non ultimo la captazione di fondi europei per 1.349.780 euro di risorse, che prima non erano disponibili e che contribuiscono ad ammortizzare i tagli a livello centrale sulle amministrazioni locali. L'impegno maggiore in questi mesi è stato quello di sistemare il conteggi e le spese pregresse tra regione, ambito e singoli comuni, comune capofila, che abbiamo sistemato con una delibera di aprile scorso. L'altro aspetto invece più innovativo riguarda tre progetti europei che ci hanno fatto intercettare risorse pari a 1.400.000 euro circa, che andranno a implementare i servizi dell'ambito con ricaduta nei singoli comuni e soprattutto andranno a implementare il personale. Un lavoro anche di ricucitura di rapporti tra comune capofila e il resto dell'ambito, nuove dinamiche ed un'atmosfera estremamente unita e coesa, che è apparsa questa mattina a testimoniare il nuovo corso della TS6. Le cose cambiano, i tempi scorrono e abbiamo prodotto dei cambiamenti importanti cercando di risolvere questioni che erano rimaste bloccate e le abbiamo sbloccate e quindi abbiamo rimesso in sesto sia gli aspetti economici di un ambito territoriale che negli anni ha assunto sempre maggiormente peso e valore in termini di riferimento proprio per i trasferimenti sia regionali che dello Stato e anche proprio per tutto l'aspetto progettuale che è estremamente importante perché gli ambiti per questo nascono, per riuscire a dare risposte corrette, distribuite ed omogenee in territori che sono dalla costa all'entroterra. È stato affidato alla cooperativa